Mancano ormai poche ore al 20 marzo, data nella quale Monsignor Francesco Sannino avrebbe compiuto 93 anni. Nonostante i 28 anni dalla sua morte, il ricordo è sempre vivido in una città dove le sue azioni, i suoi gesti e insegnamenti hanno lasciato un segno indelebile che continua a vivere negli anni. Un ricordo che resta senz'altro vivido nella mente di sua nipote Giovanna Romano, che da anni porta avanti iniziative sociali in ricordo di Monsignor Sannino. Si erano ormai giunti alla quarta edizione della manifestazione nella quale si attribuivano borse di studio agli alunni maggiormente impegnati nel sociale dell'Istituto Nautico di Torre del Greco, dove Francesco Sannino prestò servizio come docente. Manifestazione che l'organizzatrice Giovanna Romano si promette di organizzare entro il 2021. In periodo pandemico, dove le restrizioni ci privavano della nostra quotidianità, lasciandoci tempo libero atto alla riflessione, è nata l'idea di un'associazione che porti il nome del sacerdote. Queste le parole di Giovanna Romano. Un'associazione che vedrà la luce proprio il prossimo 20 marzo in concomitanza con il compleanno del Monsignore. Sarà una data simbolica per l'apertura dell'associazione culturale Monsignor Francesco Sannino, che avrà la propria sede in via Beneduce a Torre del Greco. La presidente dell'associazione, Giovanna Romano, con grande rammarico fa sapere che la cerimonia vera e propria di apertura avverrà in tempi migliori quando l'emergenza sanitaria rientrerà e si potrà programmare un evento degno di nota. L'associazione, come da statuto, avrà terreno fertile negli ambiti culturali dove si propone di educare la popolazione alle attività culturali, artistiche e ricreative al fine della diffusione della cultura in tutte le sue sfumature. Non ci si ferma certamente a questo. Sono molti infatti gli impegni che vedono l'associazione culturale Monsignor Francesco Sannino protagonista sul territorio, come le azioni che si occuperanno di seguire gli studenti e le proprie famiglie attraverso il loro percorso formativo, promuovendo l'istruzione scolastica con iniziative in ambito editoriale. Le persone che entreranno a far parte dell'enorme famiglia dell'associazione in ricordo del Monsignore saranno senz'altro coloro che vogliono mantenere vivido il ricordo di Francesco Sannino, un parroco che ha saputo farsi amare, una vita che l'ha visto sull'intero territorio vesuviano. Nel 1951 infatti iniziò a muovere i primi passi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Capodimonte, poi parroco a San Giorgio a Cremano, per poi tornare nella sua Torre del Greco, dove prestò la sua attenzione anche ai più giovani, diventando assistente studentisco della Stella Maris fino all'insegnamento nell'Istituto Nautico Torrese. Monsignor Sannino seppe contraddistinguersi anche in ambito editoriale, pubblicando numerosi iscritti a partire dal 1987, quando divenne direttore del settimanale Diocesiano Nuova Stagione, il logo dell'associazione semplice, essenziale ma significativo, diretto, così come la vita di Monsignor Francesco Sannino e infine le iniziali FS ed un simbolo composto da una croce ed un ancor a rappresentare i due mondi del Monsignore, la fede ed il mare.